Bangkok, una delle città più caotiche del pianeta, quasi 10 milioni di abitanti, un macello di gente, siamo in un vicolo, sperduto, che penso di cambiare subito direzione, di origine e fa caldo. E' un bel vento qua, con tutti questi panari. Sperditi, litte di popolo. Piccante! Grazie a tutti. La bevanda che compra HumanSafari, siamo al 7-Eleven. 7-Eleven. C'è qualche bevanda di testa, non di testa. Sì. Un macello. C'è qualche bevanda di testa. 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 C'è qualche bevanda. C'è qualche bevanda. C'è qualche bevanda. C'è qualche bevanda di testa. 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 C'è qualche bevanda. C'è qualche bevanda di testa. 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 C'è qualche bevanda di testa.